Due sposti in procura e una denuncia con querela non sono bastate, i lavori a Giampiglieri Marina restano bloccati, i residenti continuano ad avere paura mentre le mareggiate continuano a fagocitare il litorale e quegli stessi massi che avrebbero dovuto salvaguardare l'abitato. Oggi in commissione a Palazzo Zanca l'ennesimo nulla di fatto, assenti i rappresentanti della Giunta, presenti i residenti e mentre si continua a discutere si alza il livello della polemica. Il consigliere Daniele Zuccarello questa mattina si è presentato in aula con una maglia dal chiaro sapore sarcastico. Se è tutto in regola, perché i lavori sono stati sospesi, l'interrogativo stampato sulla maglietta. Di ben altro tono gli interrogativi esposti dal consigliere durante la seduta. L'assessore Pino, in risposta a ciò che è successo il giovedì scorso nella sua commissione, replica all'interno della gazzetta facendo delle semplici dichiarazioni. Noi lo sappiamo che i lavori non sono corretti, si sarebbe dovuto fare ben altri. Erano altri lavori da eseguire. Però noi abbiamo fatto questi, però sappiamo che dovevamo fare i lavori in questa maniera, sappiamo che dovevamo fare i lavori in quest'altra maniera, però abbiamo realizzato questa dicologia di lavoro. Ora Presidente, lei quando mi ha letto nuovamente queste note, intanto io non ho letto che cosa dice effettivamente il genio civile. Anche perché so io, a ciò che è in mia conoscenza, che dall'ultima riunione non ho ben capito se in quello dove lei già è stato presente, il genio civile ha fatto delle dichiarazioni chiare e ha detto questo progetto non va bene. Voi dovete ripresentarvi un altro che subito le felicità che io vi ho elencato. Poi però, noi ci arriviamo in questa commissione, non riesco ancora a comprendere il motivo e il perché Presidente, lei stia continuando ad affermare che per lei è tutto ok, perché è tutto a posto, ci sta leggendo delle semplici note che gli ha mandato l'ingegnere Cardia, perché non è qua l'ingegnere Cardia? Spiegarlo a me, a chi è qui presente, spiegarci che tutto è regola e tutto è a posto, perché se tutto è regola, perché i lavori sono stati sospesi presenti?